Chi segue le evoluzioni della giostra a Rosanero non si annoia. Non può annoiarsi perché il susseguirsi di fatti più o meno assurdi tiene alta l'attenzione con colpi di scena, purtroppo per i tifosi sempre negativi. Mr. Richardson, il presidente, adesso dice che non spetta a lui mettere in cassa i soldi necessari per salvare il Palermo. Foschi prosegue la battaglia contro tutto e contro tutti ed è partito la ricerca di nuovi soci. Zamparini ha convocato i suoi legali perché sente puzza di bruciato e potrebbe denunciare per truffa il gruppo inglese. Nel frattempo, richiamati dal clamoroso Frastuono, sono tornati in campo il finanziere italo-svizzero Antonio Ponte e il manager pugliese Raffaello Follieri. Quest'ultimo, alcuni mesi fa, fu bollato come imbroglione da Zamparini. Etichetta che, per la verità, Follieri aveva già conquistato a furor di popolo negli Stati Uniti, dove aveva scontato una condanna a quattro anni per una megatruffa. Follieri e Ponte chiedono adesso una mano a Sicindustria per riavviare la trattativa. Manca il ritorno di Paul Baccaglini, di Frank Cascio, degli arabi e dei messicani e poi la giostra sarà di nuovo completa, in attesa di altri personaggi, di altre storie e di altre accuse, sperando che qualcuno nel frattempo capisca che il Palermo è moribondo.